Valorizzare lo sport, poi credo che sia un messaggio per tutti, cioè la bellezza dello sport come fattore di crescita. Una volta ogni tot anni ti nasce anche un campione del mondo con l'intelligenza, la dedizione e la tenacia di uno come Greg Paltinieri, allora uno è più contento. Ma intanto in bocca al lupo al comune di Carpi, bellissimo lavoro, alla realtà che gestirà questa piscina, che poi crescerà. Bocca al lupo a tutti, poi ho capito che domenica si rinaugura anche il Duomo, quindi il Duomo con la sua eccellenza, la piscina con l'eccellenza del nuoto che è Paltinieri, a questo punto potete accontentarvi e non infierire sulla Fiorentina. Grazie.